Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Centro di Creazione Mi In questa puntata andremo a creare un personaggio molto speciale Chicken Little Asso spaziale Il mitico pollo famoso su tutti gli schermi del cinema Andiamolo a creare dagli elementi Scegliamo come viso direi questo qui bello tondo 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 Come carnagione non possiamo neanche metterne una più chiara Per adesso andiamo ai capelli Mettiamolo pelato Molto bene Così da dare già l'idea del pollo Andiamo alle nostre sopracciglia Scegliamo queste qui Direi che sono perfette queste qui quadrate O forse potremmo scegliere queste qui Sì forse queste sono meglio Non le ho mai utilizzate ma penso che ci serviranno moltissimo per la creazione di questo personaggio Mettiamole di un colore decisamente più scuro E adesso dobbiamo semplicemente alzarle in grandione di 4 1, 2, 3, 4 E dobbiamo girarle Rotarle di 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bene, proprio il massimo E adesso dobbiamo semplicemente Unirle di 2 1, 2 Per poi signori alzarle di altre 7 unità 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Molto bene Passiamo ai nostri begli occhi Come gli occhi Andiamo alla nostra seconda pagina E scegliamo questi qui da pollo Ora Per gli occhi dobbiamo semplicemente Ingrandirli di 1 E dobbiamo Separarli di 3 Però probabilmente Magari otteniamo lo stesso effetto Se li abbassiamo in prima unità 1, 2, 3 E li separiamo Ecco di 3 Vediamo un po' Ecco qua Ho fatto forse una cosa Che non doveva essere fatta 1, 2, 3 E 1, 2, 3 Perfetto in questo modo Era un attimo impappinato E adesso andiamo al nostro bel naso Scegliamo questo qui con i due buchini E adesso dobbiamo diminuirlo 3 1, 2, 3 Così da renderlo proprio piccolissimo E adesso dobbiamo semplicemente Abbassarlo di 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 In modo da farlo scomparire Andiamo alla nostra bocca Andiamo alla prima pagina Quarta riga e terza colonna Mettiamo questa bocca Ora con la bocca dobbiamo Ingrandirla di 2 1, 2 Adesso passiamo ai nostri begli occhi Mettiamo gli occhiali rotondi Di un colore chiaramente più scuro E adesso dobbiamo semplicemente Ingrandirla di 2 E di abbassarli di 3 unità In questo modo Adesso signori Abbiamo creato il nostro bellissimo Pollo Rendiamolo proprio Basso, 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 basso Magari un po' così E magro, magro, magro Ecco magari magro Lasciamolo Dai così 25 E così avremo creato il nostro Bellissimo Chicken Little Andiamo subito a dargli un bel colore Dobbiamo dei preferiti E diamogli il colore Penso il colore verde Il colore verde Pazzo sia il colore più adatto E così andiamo a creare Chicken Little Finalmente sto facendo tutti i personaggi di cui Il nome non entra Mi devo veramente abbrangiare Chicken Little Ecco Little magari Diamolo Chicken Little Little facciamolo Staccato No anche se non è staccato Chicken Little Mettiamo un puntato Chicken Little E molto bene signori Abbiamo creato un altro personaggio Che da aggiungere alla nostra vetrina dei miei E per questa puntata di centro di creazione miei è tutto Alla prossima puntata Alla prossima puntata